Vabbè Enrico, tu quante persone hai ucciso? Sì, ok, il solito omofobo che ti dà gli spintoni o altro del genere c'è Spintoni per cosa? Vi stai tenendo per mano con un ragazzo, o no vi siete baciati davanti ai bambini Davvero? Spintoni, gli dovevi dare un pugno in gola No, cioè non esiste che io abbia mai fatto una passeggiata a mano nella mano con un ragazzo in un luogo che non fosse completamente isolato Quindi io faresti quando succede una cosa simile? Allora, praticamente, dove ho messo le chiavi? Se prendete le chiavi dal portafari La so anch'io Diventa un pugnale